strofiniamo un cucchiaio metallico su un panno di lana tenendolo in mano se adesso avviciniamo il cucchiaio ad alcuni pezzetti di carta osserveremo che non accade nulla a differenza di quanto farebbero il vetro e la plastica il metallo del cucchiaio non attrae i pezzetti di carta le cose cambiano se ripetiamo la prova indossando un guanto di plastica in questo caso infatti il cucchiaio strofinato attrae i pezzetti di carta come si spiegano questi due comportamenti così diversi all'interno dei materiali detti conduttori come i metalli o il corpo umano vi sono cariche elettriche che sono libere di muoversi durante lo strofinio allora gli elettroni in eccesso che vengono a trovarsi nel cucchiaio passano a terra attraverso il nostro corpo che è anch'esso conduttore dunque il cucchiaio non può trattenere gli elettroni in eccesso e non si elettrizza ecco perché non attrae i pezzetti di carta negli atomi di un materiale isolante come la plastica invece gli elettroni sono molto legati ai nuclei e difficilmente se ne allontanano i materiali isolanti hanno perciò la capacità di tenere intrappolate al loro interno le cariche elettriche in eccesso se strofiniamo il cucchiaio adoperando i guanti la carica elettrica ceduta dalla lana al metallo è bloccata dalla plastica e resta confinata sul cucchiaio così ora il cucchiaio si carica negativamente ed è in grado di attrarre i pezzetti di carta gli elettroni in eccesso non possono scorrere verso terra perché trovano nei guanti isolanti una diga insuperabile che cosa succede a una sbarra conduttrice scarica quando la tocchiamo con una sbarra metallica elettricamente carica non appena mettiamo in contatto i due conduttori una parte della carica presente sul primo transita sul secondo caricandolo abbiamo realizzato quella che si chiama elettrizzazione per contatto questa tecnica è molto utile quando vogliamo suddividere una carica in un certo numero di parti uguali immaginiamo per esempio di avere tre sfere conduttrici identiche una è elettrizzata mentre le altre due sono scariche se le mettiamo tutte a contatto tra loro la carica presente sulla prima sfera si distribuisce in maniera uniforme sulle tre sfere che ora formano un unico conduttore carico quando poi stacchiamo le tre sfere ciascuna di esse avrà una carica uguale a un terzo di quella della sfera carica di partenza la carica di partenza